Vi parliamo oggi di agroecologia. Abbiamo seguito il convegno che si è tenuto, vi abbiamo anche dato conto di quel che succedeva, esperti per definire il ruolo e contribuire a vincere le sfide del metico Green Deal europeo. Una vera e propria roadmap ne è uscita per la transizione ecologica dell'agricoltura promossa dall'Associazione Italiana di Agroecologia e dalla coalizione Cambiamo Agricoltura che già conosciamo perché ne è coordinatore un nostro, un mio e vostro amico che è Franco Ferroni che dovrebbe essere il nostro ospite ma voi sapete già che con Franco le connessioni non si sa bene come siano. Ma noi ci siamo presi la briga di avere un secondo prestigiosissimo ospite che proprio Franco peraltro ci ha procurato ed è il professor Gaio Cesare Pacini dell'Università di Firenze che è il nuovo presidente nato appunto dopo il convegno dell'Associazione Italiana di Agroecologia. Sarà il nostro ospite e speriamo di averlo accanto al nostro amico Franco subito dopo la sigla. E allora salutiamo il professor Pacini, anzi salutiamo Cesare una volta per tutte. Benvenuto dunque Cesare in puntata. Grazie, grazie dell'invito, buonasera. Dunque ti abbiamo presentato come presidente dell'Associazione Italiana di Agroecologia, oggi ne parliamo, però abbiamo detto anche Università di Firenze per congruità di informazione diciamo che lavori per il Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agrarie, Alimentari, Ambientali e Forestali. Chi più ne ha più ne mette ma tutto molto congruo al tuo compito. Che compito è dunque quello che ti aspetta da presidente? Così entriamo nel vivo dell'agroecologia ovvero che cosa? Cesare? Dunque, il compito che mi aspetta è un compito direi molto interessante, direi anche una sfida visto che siamo arrivati ad un momento importantissimo per quello che riguarda l'applicazione delle due strategie che la Commissione europea ha lanciato nel 20 maggio del 2020 con appunto la Farm to Fork Strategy e la Biodiversity Strategy, così promosse dal vice presidente della Commissione Franz Timmerman. Ecco, adesso tutte le fasi preliminari e le prime fasi di programmazione sono state sviluppate, ora si entra nel vivo, queste strategie dovrebbero essere applicate, sono strategie direi estremamente ambiziose, sia per quello che riguarda gli aspetti ambientali e ecologici dell'agricoltura, pensiamo solo appunto all'obiettivo del 25% di superficie agricola utile medio in Europa, che per noi non è un obiettivo così difficile, in Italia, anche se insomma bisognerà investirci molto in energie non solo finanziarie, ma pensiamo anche all'obiettivo della Biodiversity Strategy del 10% delle aree di superficie agricola utile destinate alle infrastrutture ecologiche, quindi ad habitat per le specie animali. Allora, mi pare che hai detto abbastanza per introdurci al tema incuriosirci, ti faccio notare Cesare che ancora non fa capolino Franco Ferroni, speriamo che nel frattempo arrivi. Senti, mi tolgo subito una curiosità e vorrei una tua ufficiale dichiarazione da Presidente. Agroecologia sembra che sia congiuntamente considerata come una scienza, ma anche una pratica, guai non lo fosse, e anche un movimento sociale. Io credo che siano tre aspetti che il Presidente sinteticamente ci aiuta a illustrare, così gli amici che sono a casa comprendono bene qual è il pianeta che ruota attorno al tema. Allora, io parto da una definizione di un docente universitario, ma che era anche agroecologo, ha lavorato tanto anche nell'applicazione dei principi. Lui era Gleesman, parte appunto con una prima definizione, nel 98, che ci dice che l'agroecologia è quella scienza che studia l'applicazione dei principi e dei concetti dell'ecologia alla progettazione e gestione di agroecosistemi sostenibili. Poi lui stesso nel 2007 non parla più di agroecosistemi e basta, ma parla di sistemi agroalimentari, quindi includendo tutte le fasi, dalla produzione alla trasformazione, alla distribuzione, al consumo, quindi a tutti i cittadini, a tutta la comunità. E poi fa un'altra cosa, nel 2014 si riguarda un po' dietro le spalle e va a vedere tutte quelle che sono state le esperienze di agroecologia. Molte di queste esperienze, come tu giustamente dicevi, vengono fuori dalla storia di movimenti sociali, movimenti di persone, a partire dagli anni 70, soprattutto in America Latina, ma non solo. E quindi cosa ci dice appunto? Ci dice che sì, si parla di una scienza che si basa sulla teoria dell'ecologia, questo ben da ricordarsi, che però questa scienza deve essere applicata e quindi pratiche, si parla di pratiche agronomiche, pratiche di gestione del settore agroalimentare, ma è anche un movimento, un movimento o una serie, meglio dire, di movimenti di persone. E quindi l'importanza dei processi sociali. Ad esempio Omar Felipe Giraldo, che è un famoso ecologo politico messicano, ha prodotto una pubblicazione nel 2019, un bellissimo libro, dove parla di agroecologia, e ci spiega nel dettaglio quanto sono importanti i processi sociali per la messa in opera di quelli che sono i principi e concetti dell'ecologia e le pratiche che ne conseguono. Mi pare molto chiaro quanto hai detto e ti ringrazio. Senti, io credo che dal convegno siano usciti, avevo detto prima, una roadmap di intenti. I risultati di questo convegno hanno nobilitato soprattutto che cosa? Quali temi strategici sono emersi? Abbiamo letto della transizione ecologica, abbiamo letto evidentemente della biodiversità, che sono tutti temi ben presenti della riduzione dell'inquinamento, però ecco, voglio dire, vi sarete dati anche delle priorità, perché è un mondo di intenti e di azioni che vi aspetta, Presidente. Io fin da subito, già in preparazione del convegno, prima ero Vicepresidente, quindi ho partecipato chiaramente in prima persona a tutti i lavori di organizzazione, ma anche al Consiglio Direttivo dell'Associazione Italiana di Agroecologia. Fin da subito io ho rilevato due aspetti che sono fondamentali, anche direi proprio discriminanti, dell'agroecologia. Uno è la biodiversità, che hai menzionato te, è fondamentale. Non esiste agroecologia senza che ci sia una gestione attenta e una gestione sostenibile della biodiversità. Io vorrei che questo tema, Cesare, tu lo spiegassi bene, perché la biodiversità è al centro di tante nostre pubblicazioni. Che cosa intendi praticamente dire? Perché dici che è il primo tema, questo della biodiversità? Faccelo capire bene. Ecco, mi rifaccio di nuovo a uno scienziato di eccezionale fama, Edward Osborne Wilson, colui che ha coniato il termine biodiversità, dall'inglese biological diversity, biodiversity, 1986. Fa questa bellissima pubblicazione che io consiglio a tutti di leggere, dove in buona sostanza, facendo un'opera molto forte di semplificazione, lui ci fa capire che la biodiversità non è solo ricchezza di specie. Ecco, la biodiversità è molto di più. È sì ricchezza di specie, ma che si declina a vari livelli. Si declina a livello di gene, a livello di specie appunto, vera e propria, e a livello di ecosistema. E soprattutto è l'origine della vita. Perché? Perché ciascuna specie, ciascun organismo, ciascun gene, tratto di ciascun organismo e gli ecosistemi sono i responsabili della capacità di produrre servizi e beni ecosistemici che soddisfano le necessità, i bisogni dell'essere umano. E quindi ne realizzano le opportunità di vita. Quindi perdere pezzi di biodiversità, in realtà, non è un qualcosa che possa essere di interesse solo per qualche naturalista, qualche botanico sistematico o zoologo, ma è un qualcosa che dovrebbe interessare tutti noi. Noi dobbiamo immaginarsi che molti di questi pezzi, geni, singoli, ma anche specie, rappresentano dei nodi fondamentali che sostengono quella che è la nostra rete alimentare. Pensiamolo anche come un puzzle, no? Il puzzle è fatto di tante tessere e alcune congiungono gruppi di altre tessere. Se io inizio a levarne alcune e tocco tutte quelle nevragiche, ad esempio, spezzerò il puzzle in due pezzi, in tre pezzi, genererò un collasso. Quello che era un muro forte e solido, se io tolgo alcuni pezzi alle fondamenta, rischia di diventare un qualcosa che è soggetto al crollo. Noi, come ci dice l'Unione Europea, ci dicono tutti gli scienziati da tanti anni, a partire appunto dagli anni Ottanta, siamo in questa condizione, non si può chiudere gli occhi di fronte a questo. E se non bastasse, e con questo chiudo questa parentesi, se non bastasse, ce lo dice uno studio di fondamentale importanza, il Millennium Microsystems Assessment. Nel 2000, l'allora segretario generale delle Nazioni Unite, Kofi Annan, lancia questo studio. Mette insieme 1360 studiosi tra i migliori scienziati di tutte le parti del mondo e gli chiede di scattare una fotografia di quello che è lo stato di salute degli ecosistemi a livello mondiale e non solo, ma anche della capacità che hanno e che potrebbero perdere di produrre servizi ecosistemici che possano garantire il benessere e quindi la vita sul pianeta. Il Millennium Microsystems Assessment è tuttora, i rapporti sono stati prodotti nel 2005, ma tuttora vengono aggiornati, è tuttora un documento, un rapporto delle Nazioni Unite, e quindi finanziato dalle Nazioni Unite, da un ente assolutamente di interesse pubblico che fornisce molte informazioni al riguardo e un po' consolida quello che ho semplificato in questi pochi secondi. Molto bene e ho fatto bene a richiamarti allora come primo tema alla biodiversità, ci hai spiegato bene il motivo. Senti altri due temi, mi interessano molto, sono tanti, però ne parliamo spesso. Io ho visto che nel convegno sono stati posti all'attenzione del vostro mondo. Le relazioni tra l'agroecologia e quella che da tutti noi è chiamata, amata, agricoltura biologica, ma anche insieme con le relazioni con la biodinamica, perché rappresenta il modello avanzato e anche perché no, sostenibile rispetto all'ambiente e alla società, da tutti invocata. Ecco, anche qua vorrei che tu, Presidente, dicessi qualche cosa in merito. Certo, allora, innanzitutto, le esperienze dell'agroecologia e le esperienze dell'agricoltura biologica nascono entrambe, almeno nella loro, lasciatemi ora perdere un attimo la storia lunga, ma almeno nelle loro manifestazioni più recenti, e la storia lunga sicuramente è inclusa all'agricoltura biodinamica, ma per il momento, diciamo, il mainstream, le manifestazioni più recenti e più grandi, più visibili dell'agroecologia e dell'agricoltura biologica, nascono entrambe negli anni 70 e seguono strade che all'inizio sono parallele, poi si intersicano a più livelli e che però rilevano, diciamo, un'importanza diversa a seconda delle diverse localizzazioni. Ecco, ci spiega Pablo Titone, questo scienziato di fama internazionale, che è stato presente con noi a Roma al convegno dell'Associazione Italiana di Agroecologia, ci spiega appunto che l'agroecologia nasce come movimenti, come movimenti negli anni 70 nell'America Latina e poi si sviluppa e arriva comunque già a metà degli anni 80, anche in Europa, in ambito prevalentemente accademico all'epoca, poi si amplierà e uscirà fuori anche dalle mura, ma qui in Europa aveva una valenza soprattutto di carattere scientifico. Mentre l'agricoltura biologica, sì, nasce a partire dagli anni 20, prima esperienza di Rudolf Steiner, l'agricoltura naturale di Fukuoka, però poi nel 1972 viene fondato l'organizzazione Umbrello di tutti i movimenti di agricoltura biologica del mondo, l'IFOM, a Parigi, e da lì parte una storia che è una storia per molti versi conosciuta a tanti di noi. Quindi questi due movimenti hanno molte cose in comune, però le relazioni, però non sono proprio la stessa cosa, e qui mi riferisco all'ambito europeo. Innanzitutto l'agricoltura biologica nasce appunto da movimenti di agricoltori, ma anche di cittadini che non erano più contenti di quel sistema agroalimentare che iniziavano a vedere con tutte le sue contraddizioni. E poi anche scienziati nel tempo, non ci dimentichiamo, io vengo da una scuola, quella della professoressa Bazzana, qui all'Università di Firenze, che ha portato alla creazione già nel 1991 dell'esperimento di lungo termine più duraturo di tutta l'area del Mediterraneo in agricoltura biologica. E quindi figuriamoci, se non riconosco tutta quella parte, si ha un'evoluzione in questo senso. E il mondo produttivo dell'agricoltura biologica poi fa una decisione all'epoca anche sofferta che è quella di generare anche un sistema di certificazione. Dunque a quel punto diventa quello che era un movimento di persone, anche scienziati, ma soprattutto agricoltori, soprattutto persone della società civile, diventa un metodo di produzione a tutti gli effetti. E attualmente viene percepito come tale, seppure abbia tutta questa storia importantissima alle spalle. L'agroecologia nasce anche questa da una serie di esperienze. Stavolta in America Latina, Omar Felipe Giraldo ci dice che la prima esperienza nasce in Chiapas, ai confini tra Guatemala e Messico, da un'etnia, dal nome per me quasi impronunciabile, buttiamola là, catch kill, però insomma prendetelo con la giusta misura, e un agronomo che si chiamava Orosco e un ONG britannica che si chiamava World Neighbors, i vicini del mondo. E poi però si sviluppa, si sviluppa fin quando scienziati della fama di Altieri, appunto Glisman e molti altri, vengono a veicolarla dentro le università. Non ci dimentichiamo che c'è una tradizione importante di ecologia agraria, direi più che agroecologia, e qui non scendo nelle sottigliezze, che parte appunto da Azi e poi ancora Alfonso Draghetti e poi Haussmann e poi appunto fino alle prime cattedre, la prima in assoluto il professore Fabio Caporali dell'Università della Tuscia e poi l'Università di Firenze con concetta bazzana. Quindi ci sono dei rapporti nella storia tra queste due culture. Io attualmente vedo l'agroecologia come appunto quello che dicevi tu, una scienza prima di tutto, quindi un qualcosa che collega direttamente ai principi e concetti dell'ecologia, quindi che attinge in una storia scientifica, una storia di studi scientifici che parte, se vogliamo, da quando Ernst Eccle nel 1866 conia questo termine, oikos logos, quindi ecologia, lo studio della casa, lo studio della natura. E da allora ci sono tutta una serie di studiosi che ci offrono tutti gli strumenti scientifici per riuscire a progettare e gestire sistemi agroalimentari sostenibili. Quindi vedo da parte dell'agroecologia, dell'Aida, questa forte capacità di fornire elementi di carattere scientifico allo sviluppo dell'agricoltura biologica. Dall'altra parte, non dimenticherei la tradizione dell'America Latina, noi alle volte siamo un po' eurocentrici, pensiamo che tutto nasca e debba finire qua in Europa. Ecco, secondo me questo è un qualcosa che va cambiato. È vero. Cesare, perdonami, non voglio che passi il tempo senza che tu dica qualche cosa, anche per la biodinamica, come dicevo. Venivo proprio lì al punto. Anche questo credo che sia un punto particolarmente delicato, particolarmente importante. Sono pienamente d'accordo. Allora io immagino, e vengo a quello che volevo dire prima, ma in maniera più veloce, io immagino che nell'ambito dell'agroecologia esista un continuum, una progressione di diversi livelli di intensificazione ecologica, quindi diversi livelli di miglioramento del rapporto con l'ecosistema, con l'agroecosistema dei vari metodi di produzione, no? E quindi per realizzare questo miglioramento, questa transizione ecologica, o meglio, transizione agroecologica, abbiamo bisogno di modelli, no? Un modello viene dato sicuramente più standard da quello che sono i regolamenti dell'agricoltura biologica. Non c'è ombra di dubbio, perché anche il mainstream, anche il livello standard di applicazione delle norme garantisce, se non altro, l'esclusione dell'utilizzo dei prodotti chimici di sintesi e quindi di residui che non fanno bene o fanno male, meglio dire, all'uomo e all'ambiente. E poi però ci sono dei livelli più elevati, dei livelli che possono davvero costituire un modello e in questo senso l'agricoltura biodinamica ha tutti gli effetti. E qui lasciatemi, lasciami per favore un minuto per, diciamo, tentare di togliere elementi di polemica, no? Tutti sappiamo che l'agricoltura biodinamica è stata attaccata anche da personalità, seppur non appartenente al mondo dell'agronomia, no? Si parla di fisici, si parla di farmacologi, ma mai di qualcuno che appartenesse al mondo dell'agronomia, almeno di questo livello di fama. Ecco, tutto si basa di questo attacco su una supposta atteggiamento magico, no? Soprattutto per quello che riguarda l'utilizzo di questi preparati, che hanno, come si sta iniziando a dimostrare, ora che si spendono soldi di ricerca in questi aspetti, hanno un effetto sostanzialmente biostimolante. Ma io su questo non voglio veramente entrare in polemica, voglio togliere questi aspetti. Gli aspetti invece che si debbono riconoscere all'agricoltura biodinamica e che ne rendono un modello da seguire, sono aspetti di carattere normativo. Cioè, il disciplinare dell'agricoltura biodinamica, e a me sembra molto strano che nessuno lo riconosca mai, impone delle norme che sono totalmente in linea con la biodiversity strategy e con la fun to for strategy. Innanzitutto, ad esempio, il minimo del 10% della superficie aziendale dedicato alle infrastrutture ecologiche. E quindi se era importante la biodiversità, chiaramente noi aumentiamo gli habitat per la biodiversità. E questa cosa qui non ha a che vedere con microorganismi che nessuno vede. Questa semplicemente è una norma. Come anche è una norma di carattere fondamentale importanza, quella dell'inserimento della componente animale all'interno dell'agroecosistema, nel quale è sempre stata presente la componente animale e dalla quale è stata scissa, è stata esclusa solo dalla rivoluzione verde con tutti i problemi che ora stiamo vivendo per quello che riguarda l'inquinamento da allevamenti intensivi da un lato e dalla perdita di fertilità e dall'altro. Quindi concentrare le deiezioni animali genera problemi ambientali senza peraltro poi permettere una fertilizzazione dei suoni. Ecco, l'agricoltura biodinamica anche in questo senso impone, promuove prima di tutto ma laddove non bastasse impone anche la presenza di un minimo di 0,2 unità bovini adulti ad ettaro che è una quantità che è sufficiente a mantenere la fertilità dei suoni quando chiaramente queste deiezioni vengono abilmente compostate. Altro punto, tutti parlano di preparati tanto per fare polemica ma nessuno dice che un'altra delle norme obbligatorie in agricoltura biodinamica è quella dei cumuli cioè del compostaggio che noi sappiamo è il metodo migliore per la valorizzazione della poca sostanza organica che abbiamo a disposizione per fertilizzare i nostri suoni. Allora, io credo hai avuto tutto il tempo per spiegare bene tutto ma molte domande mi rimangono in evase ma non c'è più tempo Presidente, non c'è più tempo Cesare ma c'è l'impegno rimane l'impegno di tornare con te a completare alcuni percorsi alcuni tracciati perché sei proprio in linea anche con quello che noi stiamo tentando di in qualche modo inquadrare come congrua informazione. È stato con noi dunque Gaio Cesare Pacini professore dell'Università di Firenze Dipartimento di Scienze Tecnologie Agrarie Elementari, Ambientali e Forestali e Presidente, Neopresidente dell'Associazione Italiana di Agroecologia Sarei stato anche già Vicepresidente ma ti assicuro Cesare che la Presidenza ti ha rinvigorita la passione te lo assicuro e si sente fa soltanto piacere Grazie l'impegno è quello di rivederci salutiamo insieme Franco Ferroni che non mi ha perso i nostri scherbi come era scritto Ringrazio io te Claudio e Franco di questa opportunità ritenetemi a disposizione per ulteriori approfondimenti Grazie professore ciao Presidente e buon lavoro di cuore Grazie a tutti